God bless this movie. God bless them. Viene dunque ad assaggiare il mio pagello. Perfetto. Magnifico. Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello? Ti ho visto! A te! Assaggiare il mio flagello! Vabbè, non si muove più. Attenzione. E adesso si ricomincia. Che sei tu? Fatevi riconoscere! Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. Sarà anche esbrigativo, ma è così efficace. Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. Accidente, non ne ho più utile. Sto trattenendo i miei colpi. Contento, vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. Fa male! Fa male! All'assalto! Difenditi! Potresti batterti contro di me? Da! Morto. È morto. Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. Non ho sentito nulla. Non ho sentito nulla. Cos'è resti batterti contro di me? Vantaggine. In guardia. Dimettila di muoverti. Non ho sentito nulla. Sagripante! Ma andati sto stupendo. Non ho sentito nulla. Ma vuoi morire? Ti tieni alla tua testa? Sagripante! Ce l'abbiamo fatta. Se ti vedesse tua madre. 50 milioni. Canaglia! La carità è un buon signore. Mi dispiace. Non mi hai lasciato scelta. Oh, ci siamo. Andiamo. Senza di me! Ma cosa fa quello? Rimani a portato di tiro. Io torno a casa. Ah, così va meglio. Ah, e adesso si ricomincia. Mi sento meglio. Non era che un graffietto. È gentile, ma francamente non serviva. Che carino. Ma quello... Robin. Rimani a portato di tiro, canaglia. Io torno a casa. Rimani a portato di tiro, canaglia. Ti ho visto. Vieni dunque a lasciare un fratello. Morto. La carità è un buon signore, la carità. Rimani a portato di tiro, canaglia. Senza di me. E' ma ben ghiang. Vieni pure il tuo guardia. C'è una cosa in pace. Fatevi riconoscere. Vieni qui, piccoletto. In guardia. Canaglia. Coseresti batterti contro di me? Prendi questo, marrano. Vittoria. Dio. E' come spostare le montagne. Bandito. Perché ti hanno abitato? Perfetto, siamo dentro le mura di Nottingham. Ci siamo. Grigliamo. Vediamo un po' chi c'è. Chi sono queste truppe? Fede, fede, fede. Un attacco! Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. L'assalto! Difenditi! Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello. La Sigma Mane. Temo di una battaglia. Sto trattenendo i miei colpi. Contento. Vediamo di fare una cosa a Vemuscia. Uno. Due. Tre. E quattro. Un attacco piccoletto. Io torno a casa. Fatemi riconoscere! Addio. Addio. Dormi in guardia! Eeeh! Fuggiamo! Oh, madre! Venuto! Ha 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 ha! Mi sei battuto bene. Addio! Perfetto! Non avrei niente in contrario, ma non posso. Apriamo la porta. Guardia! Fermo là! Vieni! Fa male! Entratevi! Fa male! Credi di potermi far male! Sono troppo forte per te! Arragni! Vieni dunque ad assaggiare il mio flagello! Desolato piccoletto! Indovina chi va a morire! Arrivederci! Ah! Defenditi! Non vorresti batterti contro di me? Oh! Oh! Aspetta un attimo! Oh! Oh! Molto là! Di volco! E infarvi la ribaldi! Non fa male! Fermo là! Se la vanno... Oh! Già! Ripalte! Principe Giovanni, siete stato sconfitto! In nome di sua maestà il re Riccardo vi ordino di consegnare le armi! Maledizione! Il bandito! Non così in fretta, Giovanni presuntuoso! Abbiamo un conto da saldare, tu e io! E in guardia! Preparati a morire! A noi due, sceriffo! Bendetto, sceriffo! Sbudellatelo! Sono qui, eh! Aia! Questo! Fermo! Questo è coriace! Vi farò impiccare per questo! Ai! Fermo! Questo è coriace! Hai paolo! Fa male! Fa male! Fa male! Viva Riccardo! Redding in terra! Così si conclude la carriera dello sceriffo! La vostra disfatta è totale, mio principe! Ammettetelo! Ebbene sì! Sono sconfitto! E sia Robin di Loxley! Mi riconosco vostro prigioniero! Siate fiero della vostra vittoria! Mio fratello può essere orgoglioso di avere dei subiti fedeli come voi! Ma vedrete... Presto o tardi... L'Inghilterra avrà bisogno di me! Vieni qui, piccoletto! Signori... Una vittoria immensa! Che però è arrivata in maniera non molto consona! Perché... La serie è un po' particolare... Vabbè! Siamo quasi arrivati, mio signore! Restate comunque in guardia! Le foreste non sono più sicure! In ogni caso, non per tutti, fellone! Fellone? Sei in grado di utilizzare un'arma che non sia la tua lingua, bandito? In guardia rinnegato! Bello, davvero! Bello! Ciao! Il re! In piedi, buon Robin. Maesta, io sono il vostro servitore. Cosa? Cos'è questa freccia? La realizzazione di un desiderio, maesta. Il desiderio del ritorno del re. Bellissimo, bellissimo! Contentissimo di rivedere il suo filmato per la mia terza volta nella mia vita. E' meraviglioso. Posso dire che è meraviglioso. Ovviamente ci sarà un altro video dove voi vedrete... Questo è il profilo che io ho dovuto prendere di questa persona per fare una missione. Queste ultime missioni, perché il gioco è buggato. Un altro video vedrete, le cutscene, che sono due, i due filmati in italiano. Perché devono essere a parte, per un discorso di archivio più che altro. Così lo completo. E adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Se voi raccoglierete tutti gli oggetti in tutte le missioni, avete il finale segreto. Ve lo faccio vedere. Eccovi il finale segreto. Tu hai un Robin Hood? Mamma mia, non... Non potete capire... Ragazzi, è bellissimo. È meraviglioso. Attenzione. Soldati, all'attacco! Li ho visti, di là! Vi faccio vedere io! Guardia, a me! No, per me. E vorrebbero che mi arruolassi. Cos'è fai io adesso? Magno. Sì, c'è gente più morale. Guardate che bella. La cosa più bella è questa. I cattivi, ragazzi, sono stati nemici che si anneano e ballano assieme tutti quanti. Questa è una delle scene più belle che si possa vedere. È bellissima. In teoria anche i cavaliere dovrebbero mostrare. Guardate, guardate, guardate il sergente. Ecco, ecco il cavaliere. No, è meraviglioso. È una delle cose più belle che sono più offensi. La mappa, c'ha questo simbolo. Vuol dire che è compomentato tutto. E amici miei, mi dispiace che gli ultimi tre episodi siano stati molto difficili, però sono veramente orgoglioso di avervi portato tutta la serie di Robin Hood con la leggenda di Sherwood. Era un mio obiettivo, ce l'ho fatta. Sono contento. Sono contento. Ma che cosa, sono felicissimo di avervi portato? Ma soprattutto vi ho portato un'intera serie in italiano. Perché molti contavano degli episodi ma nessuno mai l'ha finita. Io invece l'ho finita. Certo, con dei metodi che ho dovuto prendere dei save game del montano 2015 o 2008 addirittura, però purtroppo. Comunque, amici miei, grazie mille per aver visto questa serie. Non so se saranno ultimi, però effettivamente, ma di certo, questa è stata una delle mie più complicate. Vi ringrazio, davvero, per aver visto questa serie. E noi ci vedremo su un prossimo video. Su che cosa però non lo so. Ma sicuramente sarà qualcosa di meraviglioso. Come voi, che siete stati meravigliosi per tutta la durata di questa serie, che mi avete supportato. Grazie mille. Grazie davvero. Non me lo dimenticherò. Ciao ragazzi.